Quali sono i sintomi dell'eosinofilia? Gli eosinofili sono uno dei cinque diversi tipi di globuli bianchi che aiutano il sistema immunitario umano a combattere le infezioni. Di solito il numero molto piccolo nella circolazione sanguigna si trovano solo nei tessuti del tratto gastrointestinale, il numero di eosinofili può aumentare in una condizione nota come eosinofilia, dove ci sono più di 500 cellule per millilitro di sangue. L'eosinofilia può essere idiopatica significa che la vera causa è sconosciuta, molto rara o oscura o più comunemente secondaria a un'altra condizione medica come allergie, parassiti, malattie autoimmuni o neoplasie. Segni e sintomi di eosinofilia, quindi, sono difficili da attribuire ai livelli elevati di eosinofili rispetto alla patologia sottostante della condizione secondaria. Tuttavia, i sintomi comuni di eosinofilia o malattie secondarie possono includere ipoadrenalismo, debolezza, mancanza di respiro, erozioni cutanee e dispnea durante lo sforzo. Le allergie sono una delle cause più comuni di sintomi di eosinofilia negli Stati Uniti. Queste allergie possono variare da febbre da fieno, allergie ai farmaci o allergie alimentari. Segni e sintomi che ne derivano possono includere respiro sibilante, erozioni cutanee e mancanza di respiro. Nel mondo in via di sviluppo, le infezioni parassitarie sono la causa più comune di eosinofilia. I sintomi di eosinofilia nel mondo in via di sviluppo sono spesso associate a quelli di un'infezione parassitaria o fungine si sviluppano in condizioni significativamente gravi a causa della mancanza di trattamento. Infezioni parassitarie e fungine comuni nei paesi in via di sviluppo e in alcune aree del sud-ovest degli Stati Uniti e del Messico settentrionale, note come cocidioidomicosi o febbre della valle, sono note per causare vascolite o irritazione e infiammazione del sistema venoso. Un'altra causa comune di eosinofilia associata a sintomi di vascolite è nota come sindrome di Kurg-Strauss. Entrambe queste condizioni possono provocare embolie di colesterolo, sintomi di eosinofilia che possono variare dalla morte ai sintomi di ictus precoci o attacchi ischemici transitori, TIA. I sintomi di eosinofilia variano anche in base al sistema corporeo interessato dalla condizione medica primaria. Diverse neoplasie, ad esempio, possono causare marcati aumenti degli eosinofili. Il linfoma di Hodgkin, i tumori ovarici e alcuni tumori della pelle sono spesso rilevati inizialmente da studi di laboratorio come la Contematica Completa, CBC. In questi casi, i sintomi che presentano sono solitamente quelli della malignità e degli effetti collaterali della chemioterapia o radioterapia. Alcuni studi hanno suggerito che l'elevato livello di eosinofili può comportare una maggiore incidenza di effetti collaterali indesiderati o sensibilità al trattamento di farmaci.